E' attivo il nuovo percorso specialistico post-diploma per la formazione di professionisti nel settore della sicurezza cibernetica, frutto di una collaborazione tra Polizia di Stato e ITS Umbria Academy, l'Accademia di Istruzione Tecnologica Superiore Biennale Gratuita Rivolta a Giovani Diplomati. Il percorso formativo, che vedrà l'avvio nella sua seconda edizione nell'ottobre di quest'anno, è articolato in una fase teorica in aula e in un tirocinio pratico-operativo. Il percorso è nato per rispondere alle esigenze di imprese e pubblica amministrazione di formare tecnici superiori per la transizione digitale, che impone l'adozione di importanti misure di rafforzamento delle difese cyber. Le finalità del progetto di collaborazione sono state illustrate in occasione di una conferenza in cui sono intervenute le istituzioni con la Regione Umbria, la Prefettura, il Comune di Perugia e Marco Giulietti, presidente di ITS Umbria Academy, Michela Sambuchi, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale. In una società sempre più interconnesse non sono solo i sistemi pubblici ad essere alimentati dai dati, ma anche sistemi produttivi privati. Oggi, con sistemi produttivi connessi, con tecnologia 4.0, sensoristica IoT, difendere i dati che alimentano i processi produttivi rappresenta un valore fondamentale per l'impresa come anche per la pubblica amministrazione. Oggi come oggi la digitalizzazione è una competenza essenziale per le imprese, ma non ci può essere digitalizzazione senza cyber security, che ne è il presupposto essenziale. In un momento come questo, dove tutto comunque deve passare per la rete, per la propria quotidianità, è necessario dare alla giusta importanza quella che è la figura dell'esperto di cyber sicurezza. L'unico in grado di poi proteggere e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture, che come sappiamo sono un elemento imprescindibile per svolgere il nostro quotidiano.